Miau! 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 Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di alimentazione, di educazione e di salute ed andremo a conoscere un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, come sempre in compagnia del dottor Martini. Oggi parliamo di zecche. In questo periodo è facile entrare in contatto con questo parassite. Innanzitutto, come si toglie una zecca? Togliere una zecca non è un'operazione facile, neanche per il veterinario. Ci sono mille consigli, rimedi della nonna che si possono trovare dappertutto. In realtà, anche mettendo in pratica questi consigli, non è detto che la zecca si stacchi. L'ideale sarebbe appunto che la zecca si staccasse da sola. Per fare questo bisogna ucciderla, perché una volta che la zecca muore, ritrae il rostro e quindi è facile staccarla. Il problema è che, prima, anche con i moderni antiparassitari, prima di riuscire ad uccidere una zecca in maniera definitiva, ci possono volere anche un paio di giorni. Quindi, siccome non è bene tenere la zecca lì un paio di giorni, la cosa più semplice è provare a staccarla. Ora, ci sono varie tecniche, ruotare in senso orario oppure no. Il rischio però di rompere il rostro e lasciarlo dentro è comunque alto. L'importante è che, anche se si rompe il rostro, questo non è un evento catastrofico. Molti hanno il terrore di questa cosa. In realtà, anche se il rostro rimane conficcato nella cute, al massimo può dare un piccolo granulomino, cioè un piccolo rigonfiamento duro, che non è altro che la reazione del sistema immunitario, dell'organismo nel cercare di espellere questo corpo estraneo che c'è. Però il granuloma, piano piano, si riassorbe, ci può mettere anche alcuni mesi a riassorbersi, ma quasi mai dà reazioni infettive o problematiche diverse. Come si uccide una zecca? Appunto, la zecca si uccide, la cosa migliore, con gli antiparassitari che abbiamo presenti. Ce ne sono di vari tipi, in spray, in spoton, cioè quindi con la fialettina. L'ideale sarebbe prevenire che la zecca salga sull'animale e appunto se noi trattiamo in maniera costante gli animali, questa prevenzione è sicuramente efficace. Questo non significa che nei periodi peggiori, che sono quelli dove ancora non c'è un caldo secco, quindi la primavera inoltrata, quando ci sono tante piogge, che le zecche possano salire anche su animali trattati. Però, appunto, il trattamento perlomeno garantisce che la zecca come sale inizia a prendere il farmaco e quindi muore il prima possibile. Ci sono anche degli antiparassitari naturali che si possono associare ad un altro tipo di cura? Sì, esistono vari tipi di repellenti naturali, a base di citronella, a base di olio di neem, se ne trovano in commercio di numerosi. Secondo la mia esperienza, l'efficacia non è così forte come per quelli a base di farmaci, però sicuramente possono dare sia una mano in aggiunta a quelli farmacologici, oppure nei periodi dove la presenza di zecche non è così massiva, possono essere sicuramente un valido presidio. L'importante è controllare l'animale una volta che si rientra da una passeggiata. Sì, la cosa migliore è quando si torna da una passeggiata spulciarlo o zeccarlo, sarebbe meglio dire. Basta controllare il pelo, i punti classici dove le zecche si attaccano sono dove c'è meno pelo, quindi per esempio dietro le orecchie, vicino agli occhi, ecchi addirittura, bordi delle labbra, sotto le ascelle, nell'interno coscia, quelli sono i classici punti. Poi si possono attaccare dovunque, soprattutto quando sono infestazioni importanti, si possono fare dappertutto. Però questi sono i punti dove sarebbe bene guardare sempre. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici animali. Siamo come sempre in compagnia del dottor Albanese, del centro dermatologico veterinario, oggi per parlare di zonosi. Ma innanzitutto cosa è? Le zonosi, col termine zonosi, si intendono malattie trasmissibili dall'animale all'uomo o viceversa. Quali sono le più frequenti? Per quanto riguarda l'ambito dermatologico, le più frequenti sono sicuramente la dermatofitosi, meglio conosciuta in ambito umano come tigna, e alcune malattie parassitarie del gruppo delle rugne. Dunque le mucosi sono potenzialmente pericolose anche per la salute umana? Possono essere pericolose, di solito sono di limitata importanza, però in pazienti, in esseri umani, nei bambini per esempio, che non hanno un sistema immunitario ancora molto molto valido, o in pazienti molto depressi, possono creare notevoli problemi. Quali sono le lesioni che possiamo provare nell'acute umana per quanto riguarda le patologie più frequenti? Per quanto riguarda la dermatofitosi, la tigna, le lesioni inizialmente evolvono con delle piccole papule che poi tendono a diventare delle lesioni eritematose circolari, un po' ad anello, una forma ad anello con dell'eritema, e di solito sono anche pruriginose. Per quanto riguarda le rugne, anche qui è possibile che lesioni papulari o delle piccole papule con delle croste, molto molto pruriginose, possano presentarsi su varie parti del corpo. Ok, ovviamente il cucciolo deve essere raccolto, non può essere abbandonato, deve essere subito portato dal medico veterinario che attraverso una visita e attraverso un esame della cute con una lampada particolare, la lampada di Wood, può già fare questo primo screening di controllo. Non tutti i funghi sono positivi a questa lampada, ma nelle fasi iniziali, quando un animale e il gattino non hanno ancora manifestato perdere di pelo, è possibile svelare già alcuni peli infetti. Una visita curata fa sì che appunto si evitino delle situazioni che purtroppo spesso si vedono di famiglie completamente infestate da dermatofitosi per aver raccolto un gatto per strada. Quindi si raccoglie il gatto, lo si porta a visitare e gli si fa escludere al veterinario curante appunto la presenza di una dermatofitosi. E come si contrae questo tipo di malattia? Si contrae per contatto diretto da peli e scaglie infette che l'animale perde normalmente nell'ambiente e quindi anche nell'ambiente domestico o appunto per contatto diretto. Quindi prima di accogliere un gatto e metterlo a contatto col corpo converrebbe appunto portarlo a fare una visita dal veterinario. È alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Villa già leva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling e fetta servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osini verde nella campagna retina ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food vasta gamma di accessori integratori antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti Pieve Amaiano Arezzo 338-500-7197 Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338-500-7197 Un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338-500-7197 Ben tornati all'appuntamento con l'addestramento come sempre in compagnia di Simone Grotti nella scorsa puntata vi abbiamo parlato di utilità e difesa e oggi andiamo a vedere quali sono le tre fasi che la contraddistinguono. Quali sono? La prima fase è la pista è presente nei brevetti Ipo Fao Ipo 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 II Ipo III e Ipo FH che è solo pista. Durante la pista il cane deve cercare l'odore a terra una pista tracciata a seconda del livello o dal conduttore comunque sia una pista umana tracciata a passo normale e deve seguirmela con intensità tenendo il naso molto vicino al terreno quindi una ricerca non convenzionale per un cane perché ricercano un po' a terra e un po' alzando il naso convenzionalmente in Ipo deve cercare sempre il naso a terra molto precisa deve fare a seconda del livello due lati e un angolo tre lati e due angoli fino a la lunghezza massima che è nel Ipo FH che sono dieci otto angoli quindi nove lati tratti curvi sette oggetti e milleottocento passi più o meno che è il che vuol dire siamo quasi sul chilometro di lunghezza e nel frattempo mi deve segnalare deve seguirmi questa traccia con la giusta intensità la giusta espressione senza essere troppo passatemente arrogante nel seguirla quindi non troppo deve cercare effettivamente e nella pista vengono lasciati degli oggetti di vari materiali dimensioni due per dieci due centimetri per dieci alti mezzo centimetro vengono lasciati colui dal tracciatore deve segnalarmeli o riportarmeli quindi se mi segnala va detto come segnala quindi può segnalare stando fermo in piedi sul seduto o andando a terra oppure può prenderlo raccoglierlo con la bocca e riportarmelo il cane lavora sempre alla distanza di dieci metri almeno questo per quanto riguarda la gara può lavorare con guinzaglione o senza a pettorina o a collare questo è l'unica fase in cui vi è permesso l'utilizzo della pettorina nella seconda fase invece? nell'obbedienza invece abbiamo il primo esercizio che è la condotta quindi il cane deve camminare a fianco del conduttore deve essere in una certa posizione quindi spalla del cane ginocchio del conduttore deve stare perennemente in attenzione verso il conduttore e deve essere mostrare un buon passo deve essere felice di fare quello che fa quindi e non deve mandare segnali di pressione quindi con il regolamento nuovo vogliono le orecchie alte per quello che i pastori lo vedi benissimo però si nota anche su Rottweiler che le schiaccia magari un pochettino vogliono orecchie alte e coda in movimento più o meno alta a seconda di quello che è il portamento naturale del cane capito e questo è il primo esercizio ci sono dei cambi d'andatura dopodiché a seconda dei livelli si va sui fissi che possono essere seduto e terra nei livelli più bassi e resta partendo da posizione fissa da posizione di base quindi seduto do il seduto resta e mi allontano oppure in movimento nel lipo 1 è in movimento seduto terra in movimento quindi il seduto mentre cammino do il seduto il cane si ferma si siede mi allontano di 15 passi mi giro e torno indietro mi rimetto al fianco del cane riparto mentre cammino do il terra mi allontano di 30 passi mi giro chiamo il cane il cane si deve sedere frontale poi chiamo la rimessa al piede e i riporti il riporto è un riportario in legno dal peso di 650 grammi per i brevetti più bassi nel nipo 1 in tutte e tre i riporti è 650 nel nipo 2 il primo riporto in piano è un chilo nel nipo 3 è due chili e i riporti sono tre tipi di riporti in piano quindi lancio il riporto il cane va lo prende me lo riporti si siede frontale lo deve tenere senza masticarlo stabile tenuta stabile me lo lascia e richiama il piede il secondo tipo c'è il salto il salto è a un metro salto in alto di un metro quindi salta e ritorna saltando con il riporto in bocca dopodiché c'è la palizzata quindi scala la palizzata prende il riporto e ritorna l'ultimo esercizio è l'invio in avanti l'invio in avanti consiste in 10 passi di condotta poi dico al cane di correre in avanti il cane corre su comando circa a distanza di 40 passi dal conduttore viene chiamato il terra il cane deve andare a terra è un esercizio di controllo a distanza questi sono gli esercizi dell'obbedienza restano più o meno stabili in ipo 2 in ipo 3 in più nei fissi c'è il fermo all'impiedi poi c'è la terza fase che consiste in una pista nell'attacco l'attacco l'attacco varia a seconda anche questo del livello negli esordienti è su un cuscino un cuscinetto si vede la predazione del cane e si valuta quello nella fase in ipofao è sulla manica sempre stessa tipologia di situazione il cane abbaglia nel figurante trattengo il cane il figurante scappa e lo prende simulazione di fuga di un malintenzionato nell'ipo 1 invece il cane deve cercarmi su due nascondigli nel secondo nascondiglio trova il figurante e deve abbagliare in modo costante perseverare nell'abbaio e lì deve mostrare la sua dominanza verso il figurante e finché non arrivo io dopodiché posso andare o a prendere il cane portarmelo al fianco oppure chiamarlo direttamente al fianco mio mi metto a 5 passi di distanza chiamo il figurante fuori lo faccio mettere in posizione da quella posizione il figurante fa un tentativo di fuga io nel frattempo ho spostato il cane l'ho messo in vigilanza sul figurante mettendolo sul terra come il figurante scappa io do il comando di attacco e il cane parte e attacca la manica del figurante deve cercare di trattenerlo di impedire la fuga in quelle che sono le capacità del cane il figurante si ferma c'è la fase di lascia quindi esercizio di controllo dopodiché il cane riaffronta il cane quindi lo minaccia il figurante riaffronta il cane minacciandolo e il cane deve reagire quindi deve riprendere la manica e contrastare la lotta del figurante questa fondamentale è però la stabilità del cane in questa disciplina si deve essere il cane deve essere estremamente stabile perché se non è stabile non può portarti a termine una sequenza del genere un cane aggressivo non ti arriva davanti al figurante e abbaia senza toccarlo non ti riesce a farti tutte queste fasi di transizioni senza marcarti dalla sua aggressività e nell'aggressività perderesti moltissimi punti perché sia maggiore è il punto che Gioldi maggiore è la qualità del cane c'è un giudice esperto che ti giudica proprio queste qualità e ti dice in base a quello che mostra il cane il giorno della gara quelle che sono le qualità sue nati i suoi doti naturali capito poi c'è la condotta da dietro nipo 2 nipo 3 e dopodiché il lanciato quando tagli dietro non si sta il figurante cammina io lo seguo col cane il cane sta concentrato sul figurante riaffronta il figurante si gira il cane deve mordere lascia controllo porto via il cane il figurante me lo minaccia da lontano io ho il cane in posizione se il figurante non si ferma posso dire alto là un tempo era obbligatorio non si ferma mando il cane il cane attacca affronta il figurante e a seconda di come affronta ottiene un punteggio un risultato invece che un altro ben tornati allo spazio dedicato all'alimentazione torniamo a parlare di integratori ma in termini di prevenzione sì buonasera allora per quanto riguarda la prevenzione dei cani e dei gatti è molto importante appunto specialmente nella seconda fase di vita cominciare a pensare a degli integratori a degli oli essenziali specialmente abbiamo visto appunto negli anni che ci sono degli oli ci sono proprio delle carenze purtroppo nella seconda fase di vita a prescindere dalle razze e da dove sta il cane comunque tendenzialmente gli integratori sono degli oli essenziali si dividono principalmente in quattro tipologie l'olio di salmone l'olio di fegato di merluzzo l'olio di canapa e un multiolio cereali questi oli appunto sempre come prima noi chiediamo sempre appunto un consulto dal veterinario nella seconda fase d'età del cane specialmente ma anche del gatto con un'analisi del sangue spesso riscontriamo delle carenze che possono essere di omega 3 e omega 6 possono essere carenze di vitamine nello specifico l'olio di salmone e l'olio di fegato di merluzzo sono degli oli essenziali appunto delle stesse proteine animali dove vanno a interagire con il sistema immunitario specialmente l'olio di salmone ristruttura molto il pelo e sotto pelo quando abbiamo delle carenze spesso capita appunto che nella fase dell'inizio dell'estate in primavera ci siano delle perdite di pelo molto molto importanti lì evidentemente abbiamo a livello di sottopelo un po' di carenza quindi noi consigliamo sempre un olio di salmone l'olio di fegato di merluzzo appunto agisce molto di più sulle cartilagini e su tutto quello che riguarda l'apparato osseo l'olio di canapa che è uno degli ultimi ritrovati principalmente sui cani di taglia grande dove a livello gastrointestinale spesso i nostri clienti e chi seguiamo ci dicono che sarà capitato spesso a molta gente di vedere il proprio cane nel parchetto mangiare erba questo è un po' diciamo normale quando anche usiamo alimentazioni un po' industriali che sono un po' carenti il cane mangia l'erba appunto per infiammazione l'olio di canapa è stato studiato in purezza e spremuto a freddo funziona molto molto bene come antinfiammatorio ovviamente trattandosi di oli si possono insomma mescolare all'alimentazione classica assolutamente sì non vanno a influire sull'alimentazione quotidiana del cane quindi sono oli con varie posologie in base al peso perché è molto importante si possono aggiungere tranquillamente nell'alimentazione secca o umida o se fosse possibile che non sempre è possibile nei cani sarebbe ancora meglio per l'assimilazione il classico cucchiaino da caffè fuori pasti anche se non è sempre così semplice ecco anche in questo caso parliamo sia di cane che di gatto assolutamente sì allora per quanto riguarda il cane normalmente nella seconda fase della vita questi sono molto importanti per quanto riguarda il gatto il gatto non ha bisogno né anzi noi sconsigliamo sempre l'olio di fegato di merluzzo l'olio di fegato di merluzzo il gatto ha delle cartilagini molto forti e molto elastiche l'olio di fegato di merluzzo le rende un pochino più dure quindi lo sconsigliamo sempre l'olio di salmone invece per quanto riguarda i gatti anche per loro è molto importante perché proprio i gatti hanno molto più problemi di pelo di sottopelo e di mute quindi quelli li aiuta molto per quanto riguarda l'olio di canapa è un grande aiuto anche per loro anche se poi i gatti si regolano da solo sull'erba gatta su quelle cose lì i gatti non hanno un gran che bisogno perché le infiammazioni le sentono molto prima e riescono a curarle addirittura proprio da soli semplicemente cercando certi tipi di erbe però ecco anche l'olio di canapa nel gatto specialmente chi ha problemi di renella aiuta un pochino abbiamo visto a sciogliere un pochino più sia eventuali calcoli e tutto ovviamente con renelle acclamate l'olio non può funzionare insomma che con certi che con antibiotici o diete veterinari è alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago casette e legne con veranda e giardino per lo sgambamento Nikos Dog Village è un'osili verde nella campagna retina ideale per l'allevamento e la pensione Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo l'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food e per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni Etruria Pet Food vasta gamma di accessori integratori antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a 4 o 2 zampe Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65 vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe Simone Grotti Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 Torniamo ancora una volta a parlare di acquisto consapevole dell'importanza di un acquisto consapevole del nostro cane e costruendo tante le insidie al giorno d'oggi sono sempre più insomma si nascondono online ma anche in delle vere e proprie tratte assolutamente purtroppo si purtroppo è un argomento tristissimo questo per per me l'acquisto per acquistare un cane chiaramente per acquisto si intende un cane di razza non si parla in questo momento di canile per acquistare un cane beh dobbiamo assolutamente conoscere chi ci sta vendendo il cane dobbiamo sapere come tiene i propri cani dobbiamo vedere come come lavora dobbiamo chiedere dobbiamo farsi seguire in un certo senso nel quello che viene chiamato post vendita dobbiamo in un certo senso pretendere perché lui è un professionista dovrebbe essere un professionista è un professionista non dobbiamo assolutamente guardare fare la spesso si cerca di fare l'affare i cani di razza i cani di razza selezionati i cani di razza fatti con coscienza costano molti soldi qualsiasi razza più certo poi ci sono delle razze che costano più e le razze che costano meno se abbiamo intenzione di prendere un cane di razza dobbiamo essere pronti a investire del denaro che non sono mai 300 euro non esiste le razze che costano 300 500 700 neanche 800 euro il cane di razza fatto con facendo una buona selezione facendo tutti i controlli ai genitori che devono essere fatti per quella razza costa sempre tanti soldi non non vi accontate non 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 andate mai a cercare l'affare su internet sui vari siti che vi propinano dei cani che sono cresciuti in casa che poi non è vero che sono cresciuti che stanno bene che rubano le foto e sembra che diventano un cane meraviglioso e poi vai vi incontrate spesso all'uscita di un'autostrada vi consegnano tutt'altra cosa anche perché ci sono delle storie drammatiche spesso tra queste storie delle storie indicibili assolutamente addirittura si parla si dice che con banali farmaci che si possono comprare in farmacia si possa indurre il calore quindi si può mandare una cagna in calore più frequentemente del classico ogni sei mesi questi cani produttori di questa gente senza scrupoli vengono tenuti in dei spazi angusti e vengono fatti riprodurre in continuazione fino allo sfinimento quindi sappiate che quando comprate un cane su qualche sito di annunci ad esempio e ve lo portano a casa e voi non conoscete assolutamente niente di chi da dove viene il cane che state facendo che state comprando chi sono i genitori sappiate che molto molto probabilmente siete complici perché la realtà secondo me è proprio questa essere complici di un mercato assolutamente spaventoso addirittura indicibile dico io stanno facendo delle cose che sono pazzesche per la natura e per il benessere di questi esseri quindi sappiate quando acquistate dei cani che non sapete assolutamente niente perché avete visto un annuncio ecco siete complici di quelli che poi vedete forse faccio un esempio perché forse l'abbiamo visto un po' tutti ad esempio a striscia la notizia quando aprono i famosi bagagliai delle macchine ci trovano 50 cuccioli forse 20 sono già morti 20 probabilmente purtroppo moriranno dopo che li avete già a casa forse 10 forse speriamo che seppure pieni di malattia facciano una vita dignitosa ci troviamo nuovamente al canile comunale gestito dall'EMPA l'estate si avvicina e purtroppo si avvicinano anche gli abbandoni ecco cosa fare nel caso ci dovessimo trovare di fronte a un cane abbandonato allora la cosa più importante è mettere il cane in sicurezza quindi se uno può riuscire a prenderlo fermarlo se ha una corda un guinzaglio chiuderlo da qualche parte poi ci può chiamare noi abbiamo un servizio reperibile 24 ore su 24 basta chiamare lo 0575 2551 che è il centralino dell'ospedale e farsi passare l'operatore per le catture che verrà e prenderà il cane come prima cosa controllerà se il cane ha il microchip se ha il microchip verrà contattato il proprietario se purtroppo se purtroppo non avesse il microchip il cane andrà nel canile sanitario dell'asle e aspetteremo se qualcuno si faccia vivo e se no il cane entrerà qui in canile purtroppo ancora ad oggi ci sono degli abbandoni soprattutto nel periodo estivo ora le persone iniziano ad andare in vacanza il cane inizia a essere un peso le pensioni dove lasciare il cane costano troppo e quindi si capita ovviamente come tutte le stati l'appello è non abbandonare insomma il tuo amico 4 zam assolutamente di portarselo con sé perché comunque ci sono sempre più strutture che accettano gli animali sia le spiagge sia i hotel gli agriturismi quindi si può fare una vacanza tutti insieme anche per oggi è tutto l'appuntamento come sempre alla prossima puntata ciao 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 ciao